ancora 15 secondi scendete bene occhio alla schiena guardate bene allo specchio sedere indietro perfetto ancora 3 2 1 stop l'ultimo colpo dai 3 2 1 con la gamba sinistra bene allo specchio jab cross jab dai velocità velocità nel colpire nel rientrare col colpo fuori l'aria quando colpite fuori l'aria buono 1 2 3 1 2 poi chiudete bene il movimento è questo e poi questo pronti 3 2 1 via stupendo fatto benissimo tutti bravissimi dai su 5 4 3 2 1 buono subito al kettlebell si spinge in alto gomiti chiusi e si scende giù in squat dai su 1 e scendo 2 e scendo 1 subito al kettlebell si spinge in squat dai su 5 4 3 2 1 2 che erano lì 2 che erano lì 2 che erano lì che non hanno ancora fatto questi questi che muovi che colpisci si ok ma io mi la uno questo spesso come poi stai qua qui ci siamo qui guarda la porta è tutto il ruolo eh eh lo so un po' ci ho provato a segnare qua pronti 5 4 3 riprendi la pulizia di sentire io sono alcuni se vi sentite sicuri date accettare 3 2 1 3 2 1 vai 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 Aspettare qua 6 2 2 2 3 2 2 3 2 2 고�itziam ela 6 2 2 2 2 Vieni su, 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 ancora, dai, 1, 2, 3, 4, ancora, 1, 2, 3, 4, buono, stop! Vai, e arriva giù, vieni su, e arriva giù, 10 volte, ok? E lei va dietro, ok? Le mani così, non ci si tira, allora, vai adesso, ok? Ok, qui, e mangi anche qui, ok, vieni su, buono, su, Buono, presto, ok? E voi andate a tempo a scendere con loro, e poi al momento che hai fatto la decima, non te vieni su, prendi la palla, 1, tiriamo, buono, dai, 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 così, buono, ok, chiaro? Ma si parte prima con 10 liberi e 10 a fondo, pronti? 3, 2, 1, e te 10 a fondo, via, dai, 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 buono così, buono così, su, su, Buono! Dai via, passa la palla!